Il mercato dei professionisti anche per le squadre abruzzesi si chiude senza grossi colpi last minute. Pescara e Teramo piazzano le ultime cartucce nell'ultimo giorno senza troppi sussulti. I biancazzurri riescono parzialmente nell'intento di riconsegnare a Zeman una rosa più ristretta rispetto a quella di cui il Boemo si è lamentato nella prima parte di campionato. Il colpo mancato dell'ultimo ora ha il nome del portiere 34enne Antonio Rosati che nelle intenzioni della dirigenza doveva essere l'alternativa a Fiorillo. Alternativa che invece continuerà ad essere Savelloni. Per quanto concerne gli altri affari del Delfino ieri mattina si sono allenati all'appoggio degli Ulivi gli ultimi due innesti. Riccardo Fiamozzi, per lui si tratta di un ritorno in biancazzurro, va a riempire la casella lasciata vuota da Francesco Zampano che Oddo ha voluto con sé a Udine. L'altro neo arrivato è l'attaccante Cristian Bunino dalla Juventus che insieme al giovane Morselli sono entrati nell'affare che ha portato Leonardo Mancuso alla Juventus anche se l'ex San Benedettese rimarrà fino a giugno in riva all'Adriatico. Ma il 31 ha visto ulteriori dismissioni di elementi che non facevano più parte del progetto. La punta Lucaforte va a Monza in serie C, girone settentrionale. In quello meridionale invece, destinazione Lecce, va il centrocampista Ransford Selasi. Risoluzione del contratto per il croato Milicevic mentre Andrea Rossi rimane in Abruzzo e va a Teramo. Altra cessione quella di Frank Canute in direzione Ascoli dove ritroverà Simone Andrea Ganz, uno dei primi giocatori a lasciare Pescara nella finestra invernale. Torna la casa madre invece all'Atalanta Emmanuel Lattelat che è arrivato insieme a Capone dagli Orobici non è mai entrato, complice anche dei guai fisici, nei meccanismi dell'allenatore Boemo. Insieme a Pille Acelli è andato alla Provercelli, Benali salito in serie A a Crotone e Del Sole partito alla volta di Vinova in casa Juve. Gli addi sono addirittura 12, per contro sono 6 gli arrivi, con Graviglione appunto Fiamozzi a rinforzare il reparto arretrato, Macin quello nevralgico, Falco, Yamgai, Bunino quello avanzato. Un reparto che dovrà però fare a meno proprio dell'ex Bologna che si è infortunato al suo arrivo a Pescara. Ma l'attacco complici anche le mancate partenze di Cocco, su di lui c'era la Salernitana, Cappelluzzo e Baez è affollatissimo. Espetterà Zeman decidere come districarsi in mezzo a nove elementi. Ultimo giorno con molto più fermento invece in casa Teramo, il direttore sportivo Sandro Federico al media chiude proprio con l'arrivo di Andrea Rossi dal Pescara, ulteriore segnale di una collaborazione stretta tra i due club. Dopo aver rinforzato la prima linea con Gondò dall'Asteris Tripolis e Panico dal Cesena, ma di proprietà Rosso-Blu Genoa, l'affare last minute è quello che si consuma sull'asse Teramo-Gavorrano alle ore 22. In Abruzzo arriva Riccardo Cretella, jolly che può ricoprire ruoli in mediana e nella linea difensiva, mentre in Toscana si accasa Riccardo Barbuti, che in mattinata aveva rifiutato la destinazione regina. Non si concretizza invece lo scambio con la Triestina per far arrivare a quadro a Teramo con Tulli che avrebbe fatto il viaggio opposto. Ufficiale anche l'arrivo dell'ex Chieti Angolana e Valle del Giovenco Marino Bifulco tra i pali. A Monopoli invece va Levandoschi, nel centro pugliese va anche Lorenzo Paolucci. Per la mezzala Scuola Pescara ha anche la seconda esperienza a Teramo, si chiude amaramente.